Cioè veramente mio figlio è uno che rispetta qualsiasi cosa, solo da dieci giorni a questa parte si vede che è cresciuto, torna più tardi e sta cambiando. Ho incontrato qualche ragazzino, cioè quindi lo mettono sempre su un fatto positivo e io dico sempre speriamo per lui che sia così, però non ci mettiamo niente a dire come si chiama vostro figlio Francesco, Francesco gentilmente vuoi fare la pipina nel tuo bicchiere, quella è l'unica arma che teniamo, è inutile fare il tragedio o seguire o svegliarsi la notte per andare a vedere che sta facendo con chi frequenta. Se abbiamo la possibilità c'è possibilità, ma se non ce l'abbiamo il giorno dopo appena si sveglia e prendiamo un bel bicchiere di plastica bianco possibilmente, dici gentilmente fai un po' di pipì qua dentro, facilissimo, quello non la vuole fare, appena non la vuole fare già ci sta vivendo, già è fatto. Anche qualche giorno dopo, l'importante è essere di sorpresa, parlo di sorpresa. E avere il coraggio di farlo. E avere il coraggio. E avere il coraggio di farlo. E avere quando e veda si accoste a lui, bisogna fare il coraggio a lui, bisogna fare il coraggio di svere posta.